Il Natural Language Processing, NLP, è un campo dell'informatica che permette ai computer di comprendere e interpretare il linguaggio umano in modo naturale. Questo processo include attività come il riconoscimento del linguaggio parlato, si pensi a Siri o Alexa, la comprensione del significato di testi, la traduzione automatica e la risposta automatica a domande, per esempio riservandoci voli aerei o prenotando per noi camere d'albergo. L'intelligenza generativa, d'altra parte, è un concetto più ampio che si riferisce alla capacità di un sistema di generare contenuti, spesso in forma di testo, di immagini o di suoni, in modo autonomo e che appare come un prodotto da esseri umani. Si pensa ad esempio a CiaGPT, a Gemini. Grazie all'intelligenza generativa possiamo ad esempio fare la sintesi di una conference call con diversi partecipanti o identificare per noi in centinaia di documenti tutti i punti salienti che fanno riferimento ad una specifica commessa, ma genera anche immagini oppure film. Per esempio può generare uno stile pittorico che combini in maniera creativa due stili pittorici diversi o realizzare dei film sulla base di un prompt, ovvero di una richiesta che identifica delle parole chiave. L'intelligenza generativa utilizza strumenti matematici che si chiamano large language models, ovvero algoritmi di intelligenza artificiale che usano una combinazione opportuna di reti neurali addestrate grazie ad immense quantità di dati. Per esempio tutti i testi, tutte le immagini che si trovano nel web ad un preciso istante, quello dell'addestramento stesso.